Ma voi, voi siete Luigi Pirandello e maestro. Oh, non m'ho visto. Di che cosa vi occupate? Insegno letteratura. Noi invece la facciamo. Tra tre giorni debutto col mio primo dramma. Un dramma comico, eh. Non ho nessuno scopo e sono felice. No, no, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Ma tu che mi racconti? Mi stai scredendo? Ho capito cosa è. Per ora noto solo fantasia. Ho in mente una stranezza. Che è diventata quasi un'ossessione. Maestro, innanzitutto ci scuse per il disturbo. Non c'è tronde tra colleghi. Ma che colleghi?